Nel 1988 rappresentava un sogno, il sogno di Domenico Favuzzi, che appena laureato a Bari in Scienze dell'Informazione, insieme ad altri giovani neolareati, diede vita ad Abaco, una società nata per progettare e sviluppare software per le aziende. Nel 2005 è la prima svolta quando Abaco si è fusa con la milanese Software, società quotata in borsa italiana, dando vita a Ex Privia nel 2006. All'epoca, nella zona industriale di Molfetta, l'azienda si sviluppava su un'unica palazzina. Oggi è un'autentica cittadella informatica, un polo dell'Information and Communication Technology, che ha l'ambizione di diventare un'industria digitale internazionale. Nel 2017 Ex Privia ha compiuto un altro passo in avanti, acquisendo Italtel, storica azienda specializzata in telecomunicazioni. Le due realtà provengono da storie molto diverse e, dopo essere integrate formalmente, stanno lavorando anche ad un'integrazione sostanziale. Oggi il gruppo Ex Privia Italtel opera in diversi ambiti. Nell'industria 4.0, la difesa aerospazio, dalla sanità digitale alle telecomunicazioni, passando dai sistemi di gestione dei processi aziendali a quelli della pubblica amministrazione. Oggi il gruppo costituito da Ex Privia Italtel conta circa 4.000 professionisti distribuiti in circa 20 paesi del mondo. Nel 2018 il fatturato ha superato i 620 milioni di euro. Contiamo nel nostro piano di superare i 750 milioni di euro nel 2023, quindi con un percorso di crescita, diciamo, intorno ai 3% annuo. Molfetta è la sede storica di Ex Privia. Vi lavorano circa 1.000 persone. L'azienda, nello sviluppo del piano industriale 2018-2023, ha già assunto in Puglia 100 persone nel 2018 e 40 nel 2019. Entro la fine del 2019 arriverà ad assumere oltre 100 unità. Voi puntate a neolaureati perché poi c'è un percorso di crescita interno. Sì, noi puntiamo molto sulla formazione. Formazione attraverso le accademi, cioè accademi specialistiche che portano il neolaureato dalle conoscenze acquisite durante il corso universitario a invece entrare più sulle tematiche specialistiche dei vari mercati verticali e anche formazione durante il lavoro con l'affiancamento al personale più esperto. L'epilogando Ex Privia seleziona almeno 100 persone. Devono essere laureati in discipline scientifiche con votazione non inferiore ai 105 e devono avere una conoscenza perfetta dell'inglese. La sede di lavoro è essenzialmente molfetta ma non si escludono altre sedi in Italia e all'estero. Nella sezione Lavora con noi del sito internet www.exprivia.it è possibile scoprire i profili ricercati o inviare una candidatura spontanea.